I diamanti, con la loro luce scintillante e la loro bellezza intrinseca, hanno affascinato l'umanità per secoli. Ma cosa rende veramente preziosi questi splendidi tesori della Terra? In questo articolo, ci immergeremo nel meraviglioso mondo dei diamanti per svelare i fattori che contribuiscono a conferire loro un valore così straordinario. Da caratteristiche fisiche uniche a qualità rare e provenienza etica, scopriremo gli aspetti che conferiscono un'autentica valenza a queste pietre preziose. Caratteristiche fisiche e qualità intrinseche. I diamanti vengono valutati in base alle loro caratteristiche fisiche fondamentali, comunemente noti come le 4C, caratura, carat weight, taglio cut, colore color, e chiarezza clarity. La caratura si riferisce al peso del diamante, mentre il taglio riguarda le proporzioni e la qualità della lavorazione che determinano la sua brillantezza. Il colore del diamante varia da incolore a giallo, e le gemme più rare sono quelle incolore o con una tinta intensa e vivace. La chiarezza si riferisce alla presenza di inclusioni o imperfezioni all'interno del diamante. Diamanti con una caratura più alta, un taglio impeccabile, un colore vivido e una chiarezza elevata sono considerati più preziosi. Provenienza e tracciabilità. La provenienza etica e la tracciabilità sono diventate sempre più importanti per i consumatori consapevoli. I diamanti che provengono da fonti affidabili e che rispettano rigorosi standard etici sono considerati più preziosi. La garanzia di un diamante privo di conflitti è fondamentale per preservare la sua valenza. I diamanti che vengono estratti in modo sostenibile e che sono accompagnati da un certificato di provenienza sono particolarmente apprezzati. Rarità e offerta limitata. La rarità è un fattore fondamentale nella determinazione del valore di un diamante. I diamanti più rari sono quelli che presentano una combinazione unica di caratteristiche desiderabili, come un colore vivido e una chiarezza eccezionale. Inoltre, la disponibilità limitata di diamanti di alta qualità contribuisce ad aumentare il loro valore sul mercato. Lavorazione artigianale e design La lavorazione artigianale svolge un ruolo cruciale nell'elevazione del valore dei diamanti. Un gioielliere esperto è in grado di esaltare la bellezza del diamante attraverso un design unico e una lavorazione meticolosa. La creazione di un gioiello che incornicia e mette in risalto la pietra preziosa in modo impeccabile può aumentare notevolmente il suo valore estetico e commerciale. Storia e simbolismo. I diamanti sono intrisi di storia e simbolismo. Sono stati associati a momenti memorabili e a sentimenti profondi come l'amore e l'eleganza. Il loro status di pietra preziosa per eccellenza li rende oggetti di desiderio e simboli di successo e raffinatezza. Questi aspetti culturali e emotivi contribuiscono ad accrescere il loro valore nel mercato gioielliero. I diamanti sono uniche creazioni della natura, che uniscono la loro bellezza intrinseca a una serie di fattori che contribuiscono a conferire loro un valore inestimabile. Dalle loro caratteristiche fisiche e qualità intrinseche, alla provenienza etica e tracciabilità, alla rarità e offerta limitata, alla lavorazione artigianale e al design, fino alla loro storia e al simbolismo che li circondano, i diamanti sono autentici tesori che continuano a incantare e ad affascinare il mondo.